2, 1, azione! Salve ragazzi! Sono Vincenzo, vi racconto una leggenda Praticamente c'è un albergo Però questo albergo siccome è sputtanato, vanno tutti e sono rimaste 4 suete Ah, nel poche parole è una tarda sera d'autunno e arrivano 4 suore E allora vogliono, andiamo a accomodarsi in questo albergo Sono rimaste le suete e le suore vanno in questa suete Le gas le suete Dov' poi arriva un gruppo di cavalieri, braconieri Chi è? Di cavalieri? Braconieri! Che che ti parla di impegnare le suore? E allora siccome le suore vedono che arrivano 3 qua si dice ma vabbè fatemi una suete con noi No! Brava! Aspetta se ne è andata la corre Accendite qualche cellulare, accendite qualche campo cellulare Ma se mi si cazzo da un po' 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 da un po'. Ricordatelo Eh ma non si racconta No, si racconta se ci ha modificato Vabbè Comunque siamo rimasti senza correnti Non mi inviare di vi Non mi inviare di vi Modificare tutto E' del vi 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 Tutto Ho ritorata alla luce La sua foto corretta e quindi un problema di autoclave Ma tecnici Che riguarda qualsiasi nostro appartamento Quasi sono qui la nostra appartamento E' del vi Ma io sento una delle particolarmente buone La persona che sono le due Anche E' del vi 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 Per il fatto che non aveva salutato Perché non aveva salutato Luigi Ah E lei ha detto Sì a scherzare Non sei proprio scherzo Ma che sono mi chiede E non si ricordava chi è che ero Ah io La vostra La vostra E' del vi E' del vi E' del vi La vostra Ma La vostra E' del vi E' del vi Ma E' del vi La sua No, 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 no!